Ciao ragazze, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Mi viene già da ridere. Allora, oggi voglio mettermi alla prova. Dato che sono molto lenta a truccarmi, voglio provare a truccarmi in 5 minuti. Quindi vado subito a legare i capelli ed iniziamo. Allora, sicuramente le sopracciglia verranno malissimo perché io impiego circa 10 minuti a fare solo le sopracciglia. Comunque, allora, impostiamo un timer. Allora, 5 minuti. Sì, ecco qua, faccio partire. Pregate per me. Via! Ok, partito. Allora, sopracciglia. La mia solita Montekiko. Così, le faccio un pochino a caso. Mi c'è anche rotta la punta. Perfetto! Perfetto! Ok. Vado un po' così. 4 minuti e 17. Ma come fosse veloce il tempo, ragazzi? Io veramente... Non ho parole. 4 minuti e 6, un minuto solo per le sopracciglia. Andiamo bene. Oh mio Dio, che disagio. Ma che è sto schifo? Vabbè. Correttore. 3 minuti e 43. Metto un pochino perché questo è veramente molto coprente. Ok. Sfumo tutto con le dita. Direi che è troppo chiaro. Va a caso, così. Un po' anche qui. Oh mamma mia. 3 minuti e 8. Non ci arriverò mai. Ok. Ombrettino. Justo per dare un po' di luminosità. Uno. Mi c'è anche spinto il monitor. Vabbè. 2 minuti e 37. Ok. Questo è l'ombrettino. Blas. Sono Heidi. Sfumo. 2 minuti e 4. Non ce la farò mai. Rossettino. Mamma mia. 1 minuto e 46. Metto il mascara. No, ma le sopracciglia sono sceme. Non potrei mai uscire con queste sopracciglia. No. Due. Un po' è fotta. Mi sono anche moccata. Perfetto. Peggio di così? Peggio di così. Si può un minuto e 10. Metto la terra. Faccio attenzione perché mi sia anche sfracellata. Uno. Due. Non ho un cosciocco per furirmi. Perfetto. Appiego un po' di correttore. Anche. Qui. E qui. 44 secondi. 30 secondi. Sopracciglia, sopracciglia. 23 secondi. Un po' di correttore. Uno. Ok. Basta. Tempo scaduto. Questo è il risultato. Il visaggio. Non potrei mai uscire in queste condizioni. Stava andando così bene. Se non fosse saluto per questo mascara. Nella ragazze. Questo è il risultato. Non sarei capace a truccarmi in 5 minuti. Veramente. Impossibile. Impiego solamente 10 minuti per fare le sopracciglia. Quindi. È una cosa. Ispiegabile. Nella. Vi mando un bacio grande. Spero vi sia piaciuto questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.